benvenuti ragazzi benvenuti a questo nuovo video io sono andrea e benvenuto a questo nuovo video in questo video ragazzi andremo a curiosare sul video di fanaf sb ruin fanaf security beach ruin prima di cominciare ragazzi voglio dire che questi sono ipotesi che io sto facendo quindi non so se sono vere non so se sono false quindi cominciamo allora il fatto è che lei è questa giusto ragazzi quindi fin qua è tutto a posto non vedo niente di strano intorno questa qua dovrebbe essere come vedete vedete qua qui sotto non so se si vede comunque si è scritto intercom che forse la dovremmo guidare da qualche parte non lo so può essere può essere una mia ipotesi aspetta aspetta questo sembra tanto e ragazzi ma sembra tantissimo foxy guardate guardatelo bene 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 ragazzi le orecchie qua le orecchie qua gli occhi qua la bucca qua sembra quasi lui c'è se io moro lo riesco un attimo a beccato vedete guardate sembra quasi uguale vedete guardate non so se avete guardate che e se io non so se io non so se io non so se io sono non mi perdere allora ritorniamo un attimo indietro e mettiamo il buto così almeno non sentite sempre la stessa voce allora il fatto che ci sia una cosa per controllare questo animatronics intercom è strano ragazzi è molto strano quindi non lo so se la dobbiamo guidare noi a quella però c'è ragazzi i posti sembrano tantissimo ma tanto uguali però non sembrano uguali non sono uguali oppure sono uguali ma non sono diciamo belli cioè sono tutti distrutti sono tutti brutti diciamo allora una presunta data e un presunto orario ce lo può dire uno youtuber eccolo qua non ci fa vedere tutti i segreti comunque che diciamo vede ok dove vede qua che potrebbe uscire il 4 di luglio alle 2 e 45 questo però non so se è il fanoff quello primo ecco vedete 4 luglio 2 e 45 se noi andiamo a vedere questo orario le 2 e 45 nel nostro orario in pratica dovrebbero essere le 14 e 45 quindi alle 2 dovrebbe uscire questo gioco andiamo avanti sempre bond che è uguale al al cartone animato che hanno fatto un sacco di tempo fa tutte le loro somiglianze tutte le loro cose quindi noi ragazzi abbiamo una presunta data di quando potrebbe uscire fanoff sicuri di beach ruina potrebbe essere il 4 luglio 2023 alle 14 e 25 può essere ragazzi tutto questo dovremmo scoprire la settimana prossima quindi non so cosa succederà però dovrebbe essere dovrebbe vediamo un attimo martedì ragazzi martedì prossimo vedremo cosa succederà va bene quindi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto attivate la campanina per estraggiorare tutti i video e da me è tutto bella raga grazie Grazie a tutti.